Allora siamo qui questa sera a presentare una ricerca qualitativa che è detta appunto da un sociologo che è uso fare tutt'altro tipo di ricerche, anche se nella mia organizzazione spesso si fanno ricerche qualitative in particolare quando si lavora con gli stranieri, quando si lavora su tematiche che riguardano l'immigrazione, ma appunto per me è un'esperienza non nuovissima ma è stata un'esperienza molto interessante e che doveva rispondere a un bisogno, noi avevamo un fortissimo bisogno, poi gli altri mi correggeranno nelle loro aspettative e nei loro desideri, ma il problema era che sapevamo poco di quello che stava accadendo o era già accaduto nei gruppi di consumatori, nelle persone che conoscevamo rinchiusi a casa a vivere come noi in lockdown, non sapevamo nulla di come si stavano comportando sia dal punto di vista dei consumi ma anche per molti di loro rientra a casa, rientra magari nella casa genitoriale oppure in altre case, come la stavano vivendo le persone che al contrario non avevano una fissa dimora o vivevano in contesti più disagiati. Non sappiamo quindi se questi mesi che a livello societario sono stati vissuti in maniera addirittura entusiastica se ce lo ricordiamo, i primi tre mesi di lockdown è stata un'esplosione di creatività, di lenzuoli, di aspettative positive, questo riunirsi intorno alla bandiera come dicono gli americani davanti ad eventi catastrofici, non sapevamo al contrario cosa stesse accadendo. Sapevamo perché le nostre unità di strada uscivano, perché i nostri operatori hanno continuato a fare il loro mestiere nonostante il lockdown, spesso cambiando di utenza, spesso intervenendo su ambiti assolutamente inediti. Nella mia città le unità di strada hanno per prime fatto fronte alla fame che provavano i senza fissa dimora della zona centrale della città che non sapevano nulla di quello che stava accadendo, spesso non parlavano neanche la lingua, non accedevano a nessuna piccola risorsa che magari veniva fornita loro dal commerciante di zona, non comprendevano e le nostre unità di strada sono state le prime a dare se volete una qualche forma di risposta a questi bisogni. Ma sapevamo attraverso l'unità di strada che il mercato, come abbiamo verificato dopo, era un mercato fortemente resiliente, noi temevamo che ci fosse un'interruzione nell'erogazione delle sostanze e invece tutto questo non è accaduto, fatta eccezione in alcuni casi e in alcune zone, sia per la mancanza come per l'aumento del prezzo della cannabis. E allora ci siamo detti perché non fare un'indagine approfondita chiedendo ai consumatori come hanno vissuto quel periodo, il primo lockdown. Adesso lo diremo dopo, sarebbe interessantissimo fare una ricerca ancora più avanzata sul secondo lockdown e sui giorni d'oggi perché il primo lockdown è caduto in primavera, col sole, con quel clima societario tranquillo, quindi è chiaro che abbiamo tutti quanti noi un atteggiamento positivo rispetto al futuro, in qualche modo vedremo, in qualche modo positivo. Poi è accaduto che questo coronavirus in verità sembra non avere fine, muta, cambia e noi cambiamo con lui in qualche modo, cambiamo nello stare al mondo insieme al virus. Abbiamo deciso appunto di utilizzare una metodologia che ci ha proposto Susanna, difficile, una metodologia non facile, non intuitiva, che magari poi lei illustrerà bene e non mi permetto di illustrarla io, che ci ha consentito però di fare una cosa preziosa al momento. Io personalmente ho fatto sei, sette interviste, non ricordo, direttamente nei drop-in della mia associazione. Ci abbiamo rincontrato, io ho chiesto laggiù, c'è un mio collega, Antonio Leo, dammi il nome di qualche persona che è disponibile a fare con noi questa roba e non è stato difficile raggiungerli, anzi alcuni li conoscevo perché hanno quasi la mia età. Non è stato difficile ed è stato dal mio punto di vista assolutamente interessante parlare con loro, aprire questo microfono e chiedergli una serie di cose. Una serie di cose che attenevano ovviamente al loro rapporto con quel momento storico specifico, attenevano al loro rapporto con la sostanza, al loro rapporto con i servizi e al loro rapporto con la riflessione che inevitabilmente hanno fatto, come tutti quanti noi, in quel periodo di chiusura. È stato molto interessante perché non c'è stata alcuna reticenza, perlomeno nelle interviste che ho fatto io, ma anche nelle interviste che ho letto dagli altri cittadini alieni. Va detto che questa ricerca si è dipanata sull'intero territorio nazionale fatta eccezione per alcune regioni. Noi abbiamo un poco contributo, direi pochissimo, contributo da parte del Lombardo Veneto, mettiamola così. Mentre abbiamo avuto la gran parte delle ricerche che provenivano da Napoli, da Roma, da Firenze, da Bologna, da Torino. Questa è la gran parte delle interviste che sono 40, 38. Perugia scusate, come al solito mi faccio dei nemici subito, un attimo, io mi faccio nemici in maniera istintuale. Perugia ci ha mandato dei questionari interessantissimi a compilare, a completare questa ricerca assolutamente importante. Mi sembra di dire che è stata un'attività di riflessione collettiva, nel senso che mentre noi poniamo le domande e riflettevamo con loro, li sollecitavamo a razionalizzare quello che già loro avevano riflettuto e compreso durante questo momento pandemico. Ed è straordinariamente interessante, per chi lo voglia vedere, la razionalità, davvero l'approccio razionale che spesso chi si occupa di droga da un certo punto di vista tende a cancellare, a sottovalutare, sottostimare la razionalità delle scelte, dei pensieri, degli atteggiamenti e dell'idea di futuro. Il campione è un campione sbilanciato al maschile, ma noi sappiamo che i consumatori soprattutto di alcune sostanze ingaggiano maggiormente gli uomini. Abbiamo un'età media di 36,7 anni, ma quello che mi interessa, a me come sociologo, si scivola nel quantitativo e mi viene naturale, è la mediana, che sono 34 anni, che è una mediana giusta perché mette insieme le persone più giovani e poi la gran parte dei nostri utenti del drop-in e dell'unità di strada che magari hanno un'età maggiore. In larga misura vivono in città superiore a 50.000 abitanti, quindi in grandi città italiane, hanno una scolarità che anche questa demolisce l'idea della marginalità. Abbiamo una buona percentuale, la massima parte hanno la maturità, poi vengono le medie inferiori e ci sono anche dei laureati. Anche dal punto di vista dell'occupazione si tratta di un campione piuttosto vicino alla normalità, ci sono molti disoccupati o inoccupati, ma ci sono anche moltissimi occupati. Ovviamente sono in gran parte cieli biannubili, ma non mancano persone sposate che riflettono, hanno riflettuto con noi nella loro relazione con i figlioli. Usufruiscono per quanto riguarda i servizi di CERT in massima parte, ma quasi in maniera altrettanto importante di drop-in. C'è una buona percentuale che è stata raggiunta dall'UDS notte, i consumi, vedono la maggioranza, hanno risposto di consumare cocaina, però io ho la sensazione che la cannabis neanche ce la indicavano, era di default, punto. Ti dicevano le sostanze che loro considerano sostanze da attenzionare, usando questo brutto linguaggio un po' da quest'urino. Però eroina e cocaina dubbiamente sono presenti nella grande maggioranza del campione, ma anche OPM, MDMA e chetamina. Questo più o meno per descrivere. Chi ha partecipato a questa ricerca? A parte nei quattro che ci siamo presi l'onere di redigere il rapporto, c'è stata un'intera piccola policy community di operatori che hanno dato una mano, hanno dato una mano facendo le interviste, aiutandoci nella sbobbinatura, aiutandoci in mille altre case. Troverete qua il gruppo di ricerca che è fatto da bolognesi, fiorentini, milanesi, napoletani, perugini, romani, a Torino ed Alessandria, eccetera. Come vi ripeto è diviso in cinque capitoli. La vita ai tempi del Covid che ha curato il mio collega Emanuele Perrone, molto interessante. La vita ai tempi del Covid, quindi la loro vita ai tempi del Covid. Le variazioni del consumo durante il lockdown e strategie di autoregolazione ai tempi del Covid che ha curato invece Susanna. Poi i servizi al tempo del lockdown, cioè come queste persone hanno incontrato e che servizi hanno non soltanto incontrato ma frequentato, non è stato indifferente che i servizi pubblici non hanno mai chiuso, cioè è stato importantissimo, fondamentale per molti di loro, che ha curato Stefano. E l'ultimo l'apprendimento dall'esperienza del Covid che è una proiezione su quello che loro hanno, la loro riflessione nel periodo di chiusura, la loro visione della società e qui a me è interessato moltissimo dal punto di vista sociologico perché ci ha ritrovato, come dire, riflessioni che si scrivevano nella traccia di Beck su quando parla di metamorfosi, insomma in tante letteratura contemporanea che guarda dal punto di vista sociologico alla mutazione della nostra Europa. Adesso non so come continuare, io ho fatto sta pipa iniziale e adesso facciamo la pipa numero due, se può andar bene. No, voglio dire, non abbiamo moltissimo tempo quindi forse non è facile passare attraverso tutti i risultati, credo che ognuno di noi possa mettere in evidenza qualche cosa. È un malloppo di un centinaio di pagine perché la ricerca qualitativa ha a che fare con i significati e con i racconti delle persone quindi non è mai facile né opportuno l'eccesso di sintesi, però non vi dovete spaventare perché all'inizio di ogni capitolo trovate i punti chiave descritti secondo me abbastanza chiaramente e sinteticamente da cui comunque si può avere un primo flash dei risultati. Tra l'altro trovate il report della ricerca sui nostri siti quindi su fuoriluogo sul sito di Parsec, della CAT, su ITARD e CNCA quindi potete scaricarlo. Sulla metodologia di ricerca non voglio annoiarvi troppo, insomma è una ricerca qualitativa quindi si basa su interviste in profondità e soprattutto dal punto di vista dell'analisi lavora con quella che si chiama matematica analysis cioè i risultati partono dall'evidenziazione proprio di alcune frasi tratte dalle interviste quindi alla fine le variabili di cui noi parliamo sono variabili che sono proposte dalla narrazione e dal linguaggio stesso delle persone. Quindi in questo senso si chiama un'analisi basata sui dati laddove i dati sono i racconti che ci vengono fatti. Sulla base di questo abbiamo organizzato una serie di risultati e poi abbiamo tratto delle conclusioni. Io voglio prendere una di queste sei conclusioni che trovate alla fine del rapporto che abbiamo chiamato per una critica pratica del pregiudizio. Perché? Perché quando è scoppiata la pandemia è scoppiato anche un grande allarme su che cosa sarebbe successo nell'ambito dei consumi e questo allarme aveva all'inizio disegnato uno scenario abbastanza terrificante in cui ci sarebbero enfatizzati rischi e danni per le persone che consumavano e anche uno scenario in cui un po' per quello che sarebbe successo al mercato illegale che invece poi non è successo che come diceva Claudio tranne alcuni momenti di disorientamento del piccolo spazio a livello locale nelle prime settimane in realtà poi il mercato ha tenuto e ha tenuto benissimo ma cosa sarebbe successo anche ai consumatori in un momento di così grande smarrimento circolava un'immagine di un consumatore in preda al panico se posso dirlo così che sarebbe andato tendenzialmente fuori di testa che avrebbe fatto di tutto per trovare una qualsivoglia sostanza pur di farsi alla grande e dimenticare quello che stava succedendo e c'era un grande allarme una grande paura per i danni che questo avrebbe potuto comportare ebbene non è successo nulla di tutto ciò non è successo non solo nei dati noi non abbiamo registrato più overdose non abbiamo registrato episodi particolari drammatici non è successo e soprattutto non è successo in queste biografie che sono invece biografie di una grande capacità di reagire tra adattamento da un lato a quello che stava accadendo e scelte strategie di tenuta in un momento di cambiamento così allora per questo tra le conclusioni noi abbiamo detto critica pratica un pregiudizio perché in molti e forse anche qualcuno di noi avevano fatto scattare questa immagine di consumatore helpless come si dice in inglese cioè sprovveduto cioè senza capacità di reagire e reggere a una situazione di così grande incertezza e di così grande rischio non so se vi ricordate a un certo punto è venuta fuori la notizia che la persona la persona in questione era massimo barra della croce rossa e di roma che essendo rimasto piuttosto stupefatto del fatto che le persone che usavano sostanze soprattutto eroina molto raramente diventavano positive al covid aveva cominciato a ipotizzare e non so se anche a ricercare non lo so la possibilità che questa difesa dal covid avesse una qualche ragione di tipo fisiologico no non so come è andata questa ricerca se ce la leggerò con interesse perché io sono anche curiosa delle scienze altrui però mi sembra interessante questa cosa cioè di siccome le persone che usano sostanze sono state evidentemente come molti di noi abbastanza capaci di prevenire no e di tutelare la propria salute bisognava trovare una ragione di tipo oggettivo perché è difficile trovare una ragione legata invece a un comportamento razionale noi sappiamo che molte delle persone che continuavano ad afferire i servizi di usare un certo tipo di sostanze per esempio stimolanti ma molti hanno dichiarato di la cessazione di quel tipo di consumo perché non esisteva più una buona ragione per usarli cioè se la buona ragione per usarli era quel contesto quella socializzazione quell'obiettivo di uso venuto meno quel contesto veniva meno anche un uso funzionale di quel tipo di sostanza e quindi quel tipo di consumo è stato sospeso per un periodo è stato magari sostituito oppure è stato semplicemente sospeso questo è solo uno dei tanti esempi che trovate poi nel report della ricerca ma che è molto interessante noi sottolineiamo questa cosa aver avuto una capacità forte di adattamento dei propri consumi in un momento così estremo è molto interessante perché getta luce anche sui le capacità di regolazione nei momenti invece ordinari quindi la lettura del report secondo me è abbastanza rivelatrice sotto questo sotto questa prospettiva chiudo dicendo che nelle nostre conclusioni a parte oltre a questa critica pratica del pregiudizio c'è un altro punto che ci unisce un po tutti no al di là delle singole aree della ricerca che abbiamo individualmente curato e che è l'emergere forte di una grande di una buona capacità di auto riflessività di questi consumatori cioè fare delle interviste in profondità non solo ci fa trovare dei dati e delle informazioni ma ci fa anche conoscere le persone ora al di là che i loro consumi siano rimasti stabili siano diminuiti o siano aumentati in alcuni momenti la capacità di riflettere sul perché questo accadeva e la capacità di dare conto delle proprie decisioni personali è elevatissima e guardate che in questo gruppo di intervistati non ci stavano per definizioni persone con chissà quale livello di strumento di consapevolezza ci sono persone diversissime incluse persone con lunghissime storie di uso magari provenienti anche da contesti sociali fragili no eppure come dire questa capacità di auto riflessività e di consapevolezza sui propri consumi noi l'abbiamo rintracciata in tutti e allora mi viene da dire che quando si analizzano anche gli stili e le modalità di consumo davvero molto dipende dagli occhiali che noi ci mettiamo per quello dicevo nell'intervento precedente c'è una ricerca che si fa per confermare quello che già si vuole affermare e c'è invece una ricerca che ci apre a qualche sorpresa interessante io aggiungo un po' di cose io a quello che diceva Susanna mi aggancio anche per dire nelle pieghe diciamo anche del lavoro di questa ricerca sono venute fuori anche degli indizi diciamo di lettura anche di ribaltamento di alcune letture che invece vengono fuori in modo stereotipato e anche però molto dominante ad esempio il tema dell'esempio dell'alcol dell'uso dell'alcol come un modello d'uso sociale dalle interviste fatte rispetto a chi aveva questa modalità prevalente cioè il fatto di bere insieme alle persone quando si esce e si fa serata veniva fuori come un comportamento ridottissimo diminuito o in qualche caso quasi annullato contrariamente a quella che era la rappresentazione che continuamente in questi mesi almeno nell'anno scorso di sicuro molto pompata è venuta fuori delle persone che durante il lockdown hanno perso l'orientamento rispetto all'alcol sono aumentati i consumi a dismisura fra l'altro in base a dati ridicoli ma totalmente pregiudiziale come tipo di lettura e in questo caso invece appunto nello scampolo dell'approfondimento che l'intervista consente veniva fuori in modo chiaro che sembra una banalità però ci dice anche qualcosa rispetto a come dobbiamo leggere la complessità dei fenomeni e delle cose che succedono l'altra cosa che mi viene da dire nel rispetto al rapporto con i servizi una cosa che emerge è come nella crisi del primo lockdown che in qualche modo pur mantenendo in attività le attività dei servizi in questo caso intendo più i servizi pubblici cert con una riduzione molto netta delle attività da una parte ma soprattutto un addistanziamento molto forte rispetto all'utenza e quindi ad esempio una diffusione della pratica dell'affinamento del metadone eccetera quindi una riduzione in qualche modo dell'efficienza dello standard di questi servizi avesse lasciato spazio per in qualche modo una da parte dell'utente una riappropriazione dell'uso del farmaco stesso cioè il fatto che persone che magari erano eh avevano timore magari preferivano usare il mercato nero rispetto ai servizi come in qualche caso mi viene in mente le testimonianze perché avevano paura dello stigma perché avevano paura dell'approccio ipermedicalizzato di certi SERP rispetto alla ehm alla gestione alla all'affinamento del farmaco alla mh al percorso terapeutico si sono potuti riavvicinare proprio perché in qualche modo ad esempio la la loro capacità di gestione del farmaco aumentava molto cioè erano in quel modo per il fatto che loro affidavano più facilmente capaci di poter gestire la propria terapia in quel momento lì che era un momento particolare in cui eh per alcuni di loro era importante avere l'appoggio di un farmaco eh che ad esempio mh tenesse a freno certi aspetti di eh dipendenza ma anche potesse gestire tutto quello che era un momento di sentimenti sicuramente eh tendenti un po' verso la depressione sentimenti tristi eccetera per cui in qualche modo questo incidente di percorso una diminuzione di efficienza aumenta non è una novità nemmeno una scoperta però qualcosa di interessante l'attività della persona che in qualche modo si cura e la personalizzazione della propria cura per cui in qualche modo la possibilità cioè uno dei punti chiave almeno nella mia parte viene fuori è l'importanza della negoziazione delle terapie no? E quindi i servizi che in modo a mio avviso evoluto intelligente consentono questo sono anche più apprezzati dagli utenti sono anche più tenuti presente no? Sono anche più ehm importanti per la loro vita magari di consumatori oscillanti dietro a questo mi viene in mente anche l'aspetto ehm della prossimi della vicinanza e delle relazioni umane no? Viene fuori l'importanza una valutazione positiva forte verso i servizi anche lì riguarda la capacità di avere relazioni umane vere di personalizzare queste relazioni e quindi di distaccarsi da quei modelli che sono appunto della clinica ospedaliera no? Che rende più distanti rapporti eh appunto Stefano Vecchio parla di servizio unico ovvero un servizio appunto che si diventa molto più vicino a una clinica ospedaliera e che tratta l'utente come un numero che non è capace di chiamarlo per nome che non è capace di essere vicino in quel momento lì è venuto ancora più fuori questo e quindi in termini negativi e in termini positivi per cui quei servizi ripeto cert che magari mezzi chiusi però hanno avuto la capacità di attivare modalità di prossimità no? Anche con i limiti che c'erano quindi usando telefoni usando chat usando consulenze online sono stati quelli che in qualche modo sono i più valutati quelli che hanno anche più potenzialità rispetto alla visione degli utenti e poi un'altra cosa i servizi di riduzione del danno c'è un feedback positivo in questa ricerca perché come diceva Claudio da una parte sono stati concretamente vicini e presenti sul territorio in qualche caso sul piano del sostegno alla vita concreta nel senso che hanno portato anche i pacchi alimentari oltre a non essersi ritirati dalle strane quindi servizi essenziali per sopravvivere qualcuno ci ha detto e non è poco questo da una parte quindi essenziali per sopravvivere assolutamente inseriti in una quotidianità protettiva un posto familiare dove poter fare riferimento anche in un periodo molto critico come quello in cui c'era un deserto attorno e poi altra cosa che a me interessa molto vengono visti in continuità con i servizi pubblici questo sarà dovuto probabilmente anche alle caratteristiche del campione alle caratteristiche dei servizi pubblici che hanno partecipato che non sono certamente negli standard dei servizi italiani credo ma credo che siano anche dei servizi che spiccano come capacità creativa come capacità di tenere rapporti attivi con gli utenti e positivi vengono visti in continuità e quindi anche questo è un indizio importante un indizio che ci fa capire come delle volte quando dobbiamo discutere in termini di gerarchie di potere con i cert rispetto a noi che siamo punto servizi di riduzione del danno privato sociale oppure addirittura associazionismo per non parlare addirittura del tema delle persone che usano sostanze quindi poi dei pari c'è tutta una gerarchizzazione dei poteri che invece ribaltati dagli occhi delle persone che li usano non viene assolutamente percepita e tantomeno valorizzata credo quindi fra le righe questa ricerca ci offre delle letture no? delle letture anche delle prospettive che ci dicono molto sull'organizzazione un'organizzazione futuribile ideale di quello che potrebbe essere un assetto di servizi che si occupano di droghe di consumatori e che intendono offrire delle risposte in termini di sistema che altro dire per ora mi passerei una parola a Emanuele Emanuele Perrone allora io devo dire che ho iniziato a fare questa ricerca pensando che non avessi pregiudizi e invece forse dopo mi sono accorto che avevo dei pregiudizi nonostante io faccia lo psicologo abbia fatto credo più di 3.000 ore in strada nella riduzione il danno quindi ho iniziato l'analisi tematica pensando che sarei riuscito a ricostruire un profilo un profilo tipico delle persone che usano sostanze o droghe ma in realtà non esiste alcun profilo tipico di queste persone perché l'unica cosa che le accomuna è che dichiarano quando gli viene chiesto di consumare sono riuscito ad estrarre alcune aree che si ripetevano in tutte le interviste e ve le illustro brevemente proprio per mostrare come non esiste nessuna tipicità sono persone e sembra banale dirlo perché uno va a cercare ad esempio l'area delle regole le persone che usano sostanze storicamente sono state considerate persone che non le rispettano le regole e quindi alla domanda hanno rispettato le regole sanitarie igienico-sanitarie le regole di distanziamento le risposte sono variabili alcuni le hanno rispettate alcuni no e questo è quello che è successo al resto della popolazione e quindi non c'è un profilo tipico di chi usa sostanze rispetto alle regole rispetto al distanziamento gli unici che non hanno rispettato le regole non lo hanno fatto per le loro intenzioni personali sono i carcerati perché loro non potevano rispettare il distanziamento perché non c'erano spazi adeguati c'è la carenza cronica insomma è un problema abbastanza conosciuto e i senza fissa dimora perché i senza fissa dimora non avevano a differenza di tutti noi le mascherine i gel non avevano le persone che le informavano costantemente con la chiusura dei drop in dei servizi quelli che hanno chiuso c'era ancora meno possibilità di farlo quindi all'interno della popolazione di chi usa sostanze gli unici che sistematicamente non hanno rispettato le regole non sono stati messi nelle condizioni di poterlo fare e questo è un dato mentre gli altri io potrei leggervi degli estratti che non vi leggo adesso mentre gli altri a volte le hanno rispettate a volte no come me che alcune volte non le ho rispettate stavo di fretta non mi sono messo la mascherina ho sbagliato e pace quindi questo e questi sono due aspetti fondamentali un aspetto che emerge però da tutte le interviste di tutte le persone che invece le regole le rispettano all'interno della popolazione di chi usa sostanze è la responsabilità verso gli altri cioè la responsabilità verso gli altri è il senso di appartenenza al proprio quartiere quindi chi ha un affetto che considera un affetto da proteggere un affetto che la pandemia pone in una situazione di vulnerabilità ad esempio mia madre ad esempio mio fratello ad esempio mio figlio tutte le persone che hanno una responsabilità verso gli altri si sono impegnate a rispettare le regole e questo è un dato che anche qui porta un po' oltre il pregiudizio nel senso quando sembra banale però se tu vuoi bene a qualcuno se tu hai un legame tu le regole le rispetti e le rispetti anche per gli altri e le persone che usano sostanze non fanno differenza da tutti noi e quindi questo è un altro argomento che destigmatizza in un certo senso l'ultimo aspetto sul quale mi concentro che è l'aspetto che più di tutti secondo me ha inciso sui consumi cioè durante la pandemia le persone che usano sostanze hanno aumentato o diminuito i loro consumi anche qui questa domanda è viziata dal fatto che noi pensiamo che le persone che usano sostanze siano uguali siano delle fotocopie che fanno delle cose quindi in realtà non è così in realtà come per tutti gli altri esseri umani il loro comportamento impulsivo è influenzato dai determinanti sociali i determinanti sociali sono fattori sociali che incidono sul modo in cui ci comportiamo e questo è insomma è uscito sull'Anset su New England Journal insomma è risaputo è così e vale anche per le persone che usano sostanze che oltre ad avere a pagare le conseguenze dei determinanti sociali pagano le conseguenze dello stigma e vi spiego brevemente in che senso i determinanti sociali che mi è parso abbiano avuto più impatto sul consumo e sul consumo disregolato sono la casa il lavoro e la qualità delle relazioni personali quindi le relazioni più importanti della tua vita se sono fonte di protezione in un certo senso proteggono o magari non rendono necessario un consumo diverso se invece sono fonte di stress cambiano il modo in cui le persone usano sostanze e questo è un argomento a favore dell'ambiente sociale e del suo influsso e quindi di tutto quello che facciamo io vorrei solamente leggere due frasi per far capire a che livello di riflessione le relazioni sono arrivate rispetto al consumo di sostanze e allora dice un intervistato parlando del modo mentre tornava a casa durante la pandemia quindi il dolore di mia madre alla fine ho capito che non è il mio dolore e il dolore di mio padre ho capito che non è il mio dolore certe volte si sono un po' lasciati andare non dico sempre ma a volte non dico ma alla fine mi sono un po' isolato da loro o quasi questo rende chiaramente rende chiaro che significano che le persone che usano sostanze se avevano dei determinanti sociali che li sorreggevano dovevano solo fare i conti con lo stigma se non avevano questi determinanti dovevano fare i conti con lo stigma e con la carenza di questi determinanti quindi noi abbiamo persone che ad esempio perdono il lavoro tornano a casa come è successo durante la pandemia a tante persone però se tu consumi sostanze il tema principale del ritorno nella tua famiglia è ti sei drogato non ti sei drogato ti stai drogà che stai fa hai perso il lavoro perché fondamentalmente mentre per gli altri è la pandemia siamo in una crisi per loro tu hai perso il lavoro per te anche che io te lo chiedo in continuazione comunque io sfido chiunque non è semplice e vado a chiudere quindi i determinanti sociali il lavoro la casa la qualità delle relazioni sociali primarie sono state il principale fattore del consumo disregolato e questo manca anche nel dibattito qui dalla conferenza perché noi parliamo di una legge che si rivolge a tutta la popolazione però poi quando parliamo di questa legge sembra che si rivolga solo alle persone che hanno un disturbo di dipendenza ma questo non è vero la legge è fatta per tutti e quindi tutti si trovano a dover rapportarsi con questa legge potremmo dire tanto sul fatto che le leggi poi alla fine carcerano sovracarcerano minoranze o persone che hanno reddito medio basso però questo e un'ultima cosa la direi rispetto al che ho sentito David Lazzari che è il presidente dell'ordine degli psicologi e io sono iscritto all'ordine e mi hanno colpito due cose una che lui non ha mai nominato la riduzione del danno ma non è solo perché lo faccio perché in realtà sono iscritto a medicina e quindi magari farò anche altro dopo però la riduzione del danno fonte Lancet è l'unico approccio che non ha mostrato effetti dannosi credibili quindi nel numero di maggio 2020 giugno 2021 basta prenderlo è open access lo possono leggere tutti e si può leggere e quindi mi aspettavo dal presidente dell'ordine degli psicologi che dicesse che gli psicologi nella riduzione del danno non sono messi a sistema non esiste un concorso per loro pubblico non esiste niente non esiste la formazione non esiste niente di tutto quello che esiste per gli altri quindi io sono piuttosto polemico sul sovrainvestire nella psicoterapia quando poi che serve e che è utile e che ha dimostrato ampiamente la sua efficacia ma le persone che poi ne hanno realmente bisogno sono una minoranza rispetto a tutte le popolazioni quindi dico ok investiamo nella psicoterapia investiamo anche nei servizi rivolti al resto della popolazione specie se sono empirical based con questo direi che posso chiudere grazie molte cose l'hanno detto i coautori diciamo così i coredattori quello che va sottolineato davvero sottolineato è che questa ricerca serve a demolire l'idea che siamo di fronte a un cluster di popolazione particolare nell'affrontare la mia parte che era la parte più riflessiva riflessione sulla contemporaneità sull'apprendimento i progetti ecco è emerso con forza l'assoluta sovrapponibilità delle paure delle ansie ma anche della considerarsi in una bolla di sospensione che appariva identico sputato su una ricerca della cop fatta su la cittadinanza generale siamo in questa condizione qua gli stessi atteggiamenti ma la stessa percezione di essere quella che Beck chiama la società del rischio percorreva il campione il gruppo di collettivo che hanno intervistato in maniera paritaria a questa fragilità societaria che loro indicano con grande attenzione cioè la percezione di essere una società fragile era assolutamente presente in ogni loro parola e si sposava molto spesso con la loro fragilità ma come negli altri cittadini italiani para para cioè la stessa ansia per la salute per il lavoro per il futuro emergeva nello stesso modo quindi una fragilità che si sposava con una grande paura la grande paura che questo momento come dire spingesse al massimo sull'interiorizzazione della percezione dei cittadini della necessità di controllo loro che sono i primi a essere vittime del controllo vittime del controllo ossessivo da parte del mondo questa cosa per loro era doloroso doloroso una parla delle vecchie con la frusta che le inseguiva si uscivano un attimo la vecchia con la frusta l'interiorizzazione di questo controllo sociale che può sfociare molte loro parole in un controllo ossessivo ma soprattutto con un incrudimento delle relazioni sociali influenzate da questo controllo ma è particolarmente interessante le cose che diceva prima Susanna anche in qualche modo anche Emanuele l'idea che queste persone siano schiave del craving io ho visto soltanto un momento in cui degli italiani erano schiavi del craving quando c'è stato lo sciopero dei monopoli ve lo ricorderete tutti quanti tutti quanti noi che fumavamo eravamo disposti a qualsiasi cosa per avere un pacchetto di sigarette quello è stato l'unico momento in cui ho visto cittadini italiani ma addirittura sono andati a teatro e gli attori non volevano essere pagati invece che soldi volevano pacchetti di sigarette queste persone sono tutt'altro che schiavi del craving e non sono persone che vivono come molto spesso vengono descritte in un eterno presente si occupano soltanto di droghe qualcuno anche fra le persone che stanno in questa conferenza nazionale dicono spesso il romano gli frega solo della droga non è vero neanche per un po' ed è evidente dalle cose importanti che ho imparato nella loro relazione ho imparato tanto per cominciare con l'unità di strada non sono soltanto quei luoghi dove si prende una siringa e l'acqua distillata ma dove c'è una relazione davvero importante nelle parole di queste persone volte anche a Gé c'era questo senso di appartenenza ad un luogo e di avere un luogo dove poter andare anche per non prendere nulla ma per avere una relazione ma io ho imparato in questa in questa rinnovata offerta che io mi sembrava di fare chiacchieriamo di queste cose il grande piacere loro di parlare con me con gli intervistatori su questioni che riguardava la loro vita come il progettare il desiderare e il cambiare quindi che il drogato pensa solo alla roba è una solenne cazzata non è così ma noi spesso impostiamo la relazione su questo invece che su tutto l'altro su tutto quel mondo di desideri che hanno con loro e loro dicevano come in questo momento hanno cominciato a pensare a una forma di vita nuova ad altri ritmi addirittura ad altri skyline ad altri orizzonti e come la gran parte di italiani molti dicevano c'è una casetta di mamma a Terni voglio andare a Terni voglio andare fuori ma questa è una cosa che abbiamo letto sui giornali lo dicevano gli urbanisti c'è una pulsione andare verso ecco ancora una volta dimostrazione di essere inseriti profondamente nell'humus culturale di questa nazione è un grande spazio nelle riflessioni anche alle relazioni molti di loro nel parlare del futuro pensavano al passato e pensavano di quanto fosse importante importante davvero importante le relazioni amicali che avevano da tenere dove e da tenere alcuni sul web e lì si è visto la divisione di genere i più giovani hanno un rapporto col web e per loro è stato fondamentale c'è chi ha continuato a lavorare perché magari faceva le lezioni di yoga per quelli della mia età o appena un pochino più giovani di me il web era piuttosto indifferente e quindi soffrivano di questa mancanza di relazioni con gli amici quindi il telefono quindi molto spesso un incontro davanti al supermercato per come dire avere degli spazi di quella relazione che appunto secondo la logica loro non dovrebbero interessare perché sono interessati soltanto alla roba in ultimo il loro futuro come lo vedevano il loro futuro guardate come l'abbiamo visto noi una grande consapevolezza dei rischi che aveva di fronte la nazione ed eravamo nel primo lockdown quello in primavera quello bello avevano la sensazione che insomma stiamo come Europa come nazione andando incontro ad un ignoto che però presentava già delle certezze il lavoro il reddito la finanza per loro e per tutti quindi visto piuttosto in maniera negativa ma quando scendevano a pensare al loro futuro quello personale la grande maggioranza delle persone al contrario dicevano beh io in questo momento ho riflettuto su di me ho visto quali sono le risorse vere che ho a disposizione ho fatto un conto sulle risorse penso di poterle affrontare questo futuro insomma ancora una volta per dirla con Beck hanno guardato gli effetti positivi dei mali hanno guardato nel male della pandemia l'effetto positivo per loro e per quello intorno a loro e beh insomma io penso non sia roba da buttare via io ho appreso un sacco di cose faccio una una veloce una veloce ripresa come dire a favore anche della spendibilità di questa ricerca in termini anche proprio di maggior comprensione di alcune cose che se io vedo un po' tutti i risultati e tutti gli aspetti che abbiamo trattato mi sembra che davvero ci sia un riequilibrio importante da quello che queste interviste ci insegnano tra i fatidici tre elementi droghe sette setting quindi droghe soggetti e contesto e mi sembra che il farmacocentrismo che affligge la nostra cultura mainstream farmacocentrismo nel senso ciò che conta sono le droghe che sono più o meno sovradeterminanti sia il soggetto che il contesto beh mi sembra che questo farmacocentrismo nesca di molto ridimensionato dai nostri risultati è un suggerimento che do è una possibile lettura dei nostri risultati ridimensionato almeno un po' in tre direzioni una quella dell'importanza cruciale della condizione sociale perché tra le nostre interviste come diceva bene anche Emanuele quello che viene fuori è che chi maggiormente si è trovato in difficoltà lo ha fatto non in relazione a questo o a quella sostanza o al proprio uso ma rispetto alle proprie condizioni cioè le difficoltà grandi ci sono state raccontate da chi vive in strada oppure da chi ha perso il lavoro e non aveva nessun reddito alternativo possibile allora quando ragioniamo di queste cose davvero ragioniamo di quanto i fattori sociali sono importanti prima e più delle molecole che le persone ingurgitano o assumono e la seconda cosa interessante è proprio il controllo sul proprio consumo nel senso che molte persone alcune anche con un certo senso di scoperta positiva hanno interrotto certi consumi e lo hanno fatto non so se con facilità o difficoltà ma lo hanno fatto tant'è che poi lo hanno fatto nel momento in cui non lo desideravano più o sembrava poco sostenibile o non c'erano le ragioni buone per fare per avere quel tipo di consumo e questo lo dico anche perché in una parte successiva dell'intervista in cui si chiedevano un po' che cosa avevano appreso di sé in questa esperienza così estrema molti dicono beh positivamente io ho scoperto che se decido di usare meno o di cambiare consumo o di non usare lo posso fare cioè sono stato capace anche qui anche chiuso a doppia mandata a casa mia in questo momento così estremo quindi è come dire un'esperienza che dalla quale molti di quelli che abbiamo sentito escono con un rafforzato senso di fiducia nella propria self-efficacy diremo noi cioè nella propria auto-efficacia cioè nella propria capacità di esercitare delle scelte anche sul consumo e questo mi sembra molto forte il terzo elemento che ridimensiona un po' un approccio farmacocentrico è quello dell'importanza del contesto i contesti contano e quindi quando variano o vengono meno costringono portano le persone a fare delle scelte venuto o meno quel contesto si usa differentemente o non si usa o si usa in un altro modo quindi una chiave che suggerirei di lettura non è solo sulla capacità delle persone di governarsi questo è un po' il senso generale mi pare che esca da questa ricerca ma anche getta come dire una luce diversa sull'equilibrio che noi dobbiamo saper costruire quando leggiamo i consumi tra appunto le sostanze il set and setting sotto questo sotto tutto ciò che avete sommariamente ascoltato io farei a tutti un invito ad invitarci cioè ci piacerebbe che questa ricerca fosse davvero occasione di un confronto diretto e forte tra molti di noi con le persone protagoniste quindi con le persone che usano sostanze con gli operatori perché insomma noi abbiamo un'idea di ricerca come di una ricerca che serva no? che succede? ah ok come una ricerca che come dire non rimanga chiusa tra le pagine di un rapporto ma davvero si metta al servizio di un cambiamento grazie prima che Franco ha chiesto di intervenire quindi se vuole venire qui a intervenire su questa cosa dei contesti ecco è particolarmente interessante andare a leggere in un momento in cui tutti gli italiani hanno questa orgia comunitaria si parla dei loro contesti come dove tutti sono diventati fratelli la grande differenziazione precisa che fanno queste persone nella maggioranza fra i contesti che vivono uno lo dice chiaramente c'è quartiere e quartiere non sono tutti quanti uguali non siamo tutti nella stessa condizione Franco ormai sarà l'età ma quando sento delle cose per associazione me ne vengono delle altre Claudio ha detto che l'unico esempio che conosce di Craven è stato quando erano chiusi i tabaccai in effetti io l'ho vissuto una volta a Catania con Marco Pannella che era rimasto senza sigarette perché avevamo prolungato la presenza e non capite il e non capite il diavolo a quattro che si faceva perché bisognava trovare non un pacchetto di sigarette ma all'essa il TIC e quindi solo mettendo in moto persone capace dal portiere dell'albergo capace di trovare una stecca di queste sigarette si è potuto continuare un'operazione politica delicata no invece volevo dire un'altra cosa sulla ricerca ho sentito a me pare molto interessante mi pare non ancora stampata però questa forse meriterebbe anche di essere diffusa e mi ha fatto venire in mente per contrasto l'immagine dei discorsi di stamattina quelli ufficiali ma che sono stati tanti in cui appunto si è tornati indietro nel tempo all'immagine del drogato dell'incapace cioè una una visione completa di quello che è il peggior paternalismo autoritario il tunnel della droga abbiamo risentito eh sì cioè ne abbiamo sentite di tutte e di più stamattina quindi c'è un arretramento culturale impressionante e mentre questa ricerca per quello che ho sentito dà l'idea di persone responsabili che fanno i conti con le difficoltà della convivenza della vita eccetera come le facciamo noi le abbiamo fatte noi insomma e quindi questo contrasto fra l'immagine del potere di stamattina perché era tutto il potere del governo dell'università della delle regioni cioè stamattina c'era un panorama no c'era un giudice costituzionale che Dio l'abbia in gloria che io non so che aveva che ha a che fare con il diritto è stato nominato dalla corte dei conti e nella corte costituzionale c'è anche il rappresentante della corte dei conti cioè voi capite c'era tutto il potere no e sono state dette delle cose ma quanti anni fa le ascoltavamo cioè era un quindi io penso che questa ricerca oggi pomeriggio qua è una risposta intelligente appunto a questo come la disparità è appunto che questa ricerca viene presentata in questo luogo e però rischia di non trovare ascolto verso quelli che decidono poi quindi sono felice di avere sentito che si è fatta questa ricerca e dall'altro devastato dai discorsi di stamattina per fortuna c'è stata poi la tavola rotonda del tavolo 1 però insomma c'è una discrepanza veramente con cui dobbiamo fare i conti e rifletterci grazie Franco chiudiamo chiudiamo solo ringraziando tutto il gruppo più di 30 persone che hanno reso possibile questo lavoro e ricordando e ricordando che questo lavoro è stato fatto senza un euro cioè è una ricerca attivista grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti